Buongiorno, faccio un video sul cambiamento, sul fatto se sia possibile cambiare o non cambiare un paese per renderlo diverso da come è, ma possibilmente migliore. E mi ricollego a questo, al video che ho fatto precedentemente sulle caratteristiche dell'Italia, che la rendono un po' peculiare come paese rispetto agli altri paesi europei. Allora, premesso che il cambiamento, le persone e gli stati non cambiano, se non sono forzate o se non hanno forti motivazioni a cambiare. Il cambiamento richiede energie, richiede sforzo, è anche un'incognita, è anche uno salto nel buio, e quindi la gente e gli stati tendenzialmente preferiscono non cambiare per una pigrizia che è umana e che vale per gli individui e vale anche per gli stati che degli individui sono fatti. E questo si vede in tante società anche storicamente, che sono rimaste uguali a se stesse per molti anni, per molti secoli. La società romana è rimasta tendenzialmente caratterizzata da certe strutture, per tutta la durata, prima della Repubblica e anche durante l'Impero. Ha continuato ad avere certe strutture sociali che hanno continuato perché quella era la società romana che pure è andata incontro a grandissimi cambiamenti nella sua storia, anche perché dovendosi fronteggiare con l'esterno, uno su tutti il confronto con Cartagine, ha sicuramente cambiato profondamente Roma, perché l'ha obbligata a mettere in discussione alcune cose, ma fondamentalmente la società romana rimane abbastanza simile a se stessa, fino a quando poi non collassa e forse proprio per questo, proprio perché non è riuscita a rinnovarsi abbastanza, almeno la parte occidentale dell'Impero che poi crollerà e verrà sostituita da altre realtà, che a loro volta porteranno in Italia e nei paesi europei la loro identità nazionale e nel confronto tenderanno un attimino ad adattarsi, ma l'una e l'altra tenderanno a rimanere comunque quello che sono. Questo per dire che cosa appunto? Che le società tendono a non cambiare, e allora come si fa a cambiare gli individui, visto che qualche volta uno dice io vorrei cambiare, oppure vorrei cambiare mio marito, mio cugino, mio nipote, quello che è, oppure come si fa a cambiare gli stati, che degli individui sono fatti, che sono anche un po' più complessi da cambiare. Banalmente le basi per cambiare le persone sono due, la motivazione e lo sforzo, la forzatura dall'esterno. Ti obbligo, perché se non lo fai, quindi la motivazione diventa una fuga dalla sofferenza, dal disagio quantomeno, che è sempre un po' meno stabile di quella che è la motivazione, perché si obbligo una persona a fare una cosa, nel momento in cui viene meno l'obbligo la forzatura, se la cosa mi consuma energie, smetterò di farla, però c'è tendenzialmente anche poi un'abitudine che si acquisisce ripetendo certi tipi di atteggiamento che poi diventano abbastanza stabili. Vediamo storicamente uno Stato, uno Stato che è cambiato profondamente, ma veramente profondamente, è analizzabile l'Unione Sovietica, soprattutto degli anni 30. quando vediamo un paese che era ancora profondamente agricolo, che passa, un paese che era tutt'altro che piccolo, quindi non facile da gestire, perché un conto è cambiare il Principato di Monaco, un conto è cambiare il Liechtenstein, un conto è cambiare l'Unione Sovietica, che negli anni 30, oltre ad essere il paese più grande del mondo, aveva una popolazione di circa 150 mila di habitanti, quindi anche abbastanza variegata, quindi già anche difficile da gestire da un punto di vista di struttura di uno Stato, perché era un Stato multietnico, era un impero fondamentalmente che aveva cambiato la sua denominazione, ma essenzialmente era un impero europeo, tra l'altro l'ultimo grande impero europeo, perché durerà fino agli anni 90, a differenza dell'impero inglese e dell'impero francese, che cadranno molto prima, perché l'economismo arriverà alla sua conclusione negli anni 50, e l'Unione Sovietica riuscirà ad andare avanti per due motivazioni prevalenti rispetto a quegli altri imperi. Uno, la contiguità territoriale, cioè era un monoblocco, non era come l'impero inglese che era sparpagliato, o anche il francese che era sparpagliato. Due, aveva un collante ideologico, cioè c'era un'ideologia alla base dello Stato che era quasi pseudo-religiosa, in un certo senso comunque era una credenza, una fede diciamo quantomeno, che faceva sì che si potesse vedere o si protendesse di vedere nello Stato sovietico non tanto uno Stato nazionale, uno Stato semplicemente, ma come un mezzo per ottenere certi obiettivi di miglioramento sociale e di miglioramento in generale della vita dei suoi cittadini, quindi non era la supremazia del russo nei confronti delle altre nazionalità, o almeno così doveva essere, cosa che ha cercato di fare anche gli altri imperi, intendiamoci l'impero inglese aveva questa pretesina, però nel caso del russo probabilmente era più forte per queste motivazioni qui più internazionaliste, insomma non è io sono il russo e ti porto la russicità a casa, io ti porto questo stile di vita che dovrebbe essere il migliore perché è il più giusto, eccetera. E per questo secondo me ha durato più tempo, oltre che essendo anche meno liberale, quindi essendo più ingabbiato in certi schemi di minor liberalità fino a un certo punto. Ma torniamo al discorso del cambiamento, il cambiamento che avviene negli anni 30 e che porta l'Unione Sovietica a passare da un paese agricolo a un paese industriale, è un cambiamento profondo che stravolge sia il modo di fare agricoltura, perché negli anni 30 c'è la collettivizzazione, cioè praticamente i terreni vengono statalizzati, o comunque collettivizzati in cooperative e vengono dati in gestione a dei gruppi di contadini che lavorano in specie di cooperative o comunque per lo Stato. E già questo è stato una forzatura molto forte, tant'è che si rasentò la guerra civile quando si riuscì poi a fare questa cosa. Obbligare il contadino a rinunciare alla sua terra non è una cosa più semplice, obbligarlo a fare, obbligare milioni di contadini è ancora più difficile. Allo stesso tempo, proprio anche grazie ai proventi economici che questa operazione creerà, perché ovviamente ci sono motivazioni economiche alle base, con la ricchezza economica che arriva da queste operazioni, si investe nel importare tecnologia dall'Occidente che permette di creare una marea di nuove imprese, metallurgiche, meccaniche, elettromeccaniche, intere di elettrificazione del paese, eccetera, che porta a aumentare la produzione di beni di vario tipo, soprattutto a livello industriale, ma anche in piccola parte all'inizio dei beni di consumo che poi verranno recuperati più avanti. Questo vuol dire che milioni di contadini non fanno neanche più i contadini, ma vanno a lavorare in fabbrica. Questo vuol dire che cittadine piccole diventano, o cittadine che non esistevano, mi pare che per esempio a Magneto Gorsk non c'era una città, la creano ad hoc per la costruzione degli impianti, si creano intere nuove città e con contadini che vanno diventando cittadini, quindi il paese viene profondamente stravolto, da paese contadino a paese industriale, con una forzatura, con una tempistica velocissima, con costi umani ovviamente enormi, perché il cambiamento ci sta, è già difficile, ma se poi lo fai velocemente ha dei costi ancora maggiori. Però alla fine, di soli dieci anni, l'Unione Sovietica riuscirà a produrre, con delle sbavature, con delle qualità inferiori, con mille difetti, ma riuscirà ad avere una produzione industriale che le permetterà di fronteggiare l'invasione della Germania, con mezzi tecnici abbastanza buoni da poter reggere all'impatto con la Germania. Ovviamente non è solo quello, ma comunque c'era la tecnologia, ovviamente un caso unico non dice nulla, ma pensiamo al caro T-34, semplice finché si vuole, ma innovativo nella sua tecnologia. Tanto buono che persino i tedeschi dissero, guarda, l'unica cosa qui è copiarlo, perché è fatto molto bene, perché per varie motivazioni, prevalentemente per la sua capacità di resistere ai proiettili tedeschi, perché aveva il fronte con le maniere inclinate, quindi questo aumentava la resistenza alla penetrazione dei proiettili, e anche nella sua semplicità rappresentò il cavallo da battaglia dell'esercito sovietico, tra le altre cose. Poi ovviamente ci fu aiuto americani, eccetera, assolutamente sì. Però l'Unione Sovietica resse anche grazie a questo. E poi negli anni 40, negli anni 50, l'Unione Sovietica comunque riesce a produrre, anche in alcuni campi delle innovazioni, l'ultimo è la prima che riesce a mandare un satellite nello spazio, e uno dirà, vabbè, anche gli Stati Uniti poi ci riusciranno, certo, gli Stati Uniti però partivano da un'industrializzazione di più lunga durata, capitali molto più disponibili a livello economico, e poi si erano fregati Von Neumann che, no, Von Braun, che era l'esperto di missilistica tedesco che portò tutta la sua conoscenza agli Stati Uniti, i russi riuscirono a recuperare meno cose dalla Germania in questo senso. Quindi, anche una certa innovatività, anche perché poi comunque c'era una capacità anche culturale da parte dell'Unione Sovietica di vecchia data, perché a livello di studi fisici, eccetera, l'Unione Sovietica primeggiava ancora prima durante l'impero, quindi comunque c'era un humus. Però quello che voglio dire è, l'Unione Sovietica è un esempio di cambiamento profondo, richiesto da un momento storico importante, probabilmente senza questo cambiamento l'Unione Sovietica attaccata dai tedeschi sarebbe collassata, probabilmente non lo sappiamo, però non avrebbe avuto le stesse forze militare a livello tecnologico che ha invece avuto grazie a questo salto in avanti che le venne fatto fare da Stalin. Quindi abbiamo un esempio di cambiamento che è avvenuto con uno sforzo dall'alto, ovviamente c'era anche la carota insieme con il bastone, cioè c'erano i premi, c'era il sogno di creare qualcosa di meglio, quindi anche questo che è un premio alla fine, il sogno di creare un mondo migliore è un premio e molti sono delle interviste, si presume anche abbastanza sincere, di operai che dicevano noi lavoriamo anche 16 ore al giorno per costruire questa cosa, ma perché stiamo costruendo qualcosa che sarà nostro e la nostra fabbrica e la nostra città eccetera, c'era la convinzione di lavorare per sé e questa è una forte motivazione a investire risorse nelle cose. Quindi il caso di una serviettica è un esempio classico di bastone e carota che porta a fare quello che è più difficile di tutti, cioè il cambiamento con le tempistiche molto strette, con gli errori tipici delle tempistiche che è avvenuto, questo vale quindi per qualunque paese che voglia fare dei cambiamenti, bisogna fare una tempista, bisogna avere una finestra di tempo sufficiente perché ci vogliono il tempo per costruire comunque un cambiamento, bisogna avere una vision ovviamente, nel bene o nel male i sovietici avevano una vision, voleva dire avevano un'idea di progetto di come era il paese e come lo volevano che diventasse, prima di tutto ci vuole la vision, poi per applicare questa vision ci vuole tempo, mezzi di coercizione, cioè il modo di obbligare le forze attive del paese ad andare in quella direzione e premiare chi lo fa anche perché solo con la coercizione è difficile, si rischia anzi che a un certo punto il paese dice senti, perché dobbiamo cambiare noi, cambiamo governo e il governo così facendo si fa le scarpe, interessante notare che l'Unione Sovietica non ha mai avuto grossi rivolte interne in cui l'autorità dello Stato è stata messa in discussione, questo è interessante, e quindi questo è il metodo per cambiare un paese, allora per un paese come l'Italia per un paese anche se noi ravvediamo dei difetti o quelli che sono dei limiti insomma, fermo restando che ogni società ha degli equilibri per cui andando a cambiare una cosa poi si vanno a cambiare anche altre cose quindi è vero c'è del saggio nel sapere che quando uno va a fare dei cambiamenti è un salto nel buio e quindi fondamentalmente non si diventa mai quello che ci si aspettava che si sarebbe diventato quando si fa un cambiamento si cambia si ma si diventa qualcosa di comunque non esattamente quello che ci si aspettava e questo porta molte persone magari anche un pochettino più sagge a evitare il cambiamento anche per un meccanismo di consapevolezza del fatto che non si sarà mai esattamente quello che si dovrebbe diventare detto questo però nel momento in cui uno dice qua io so che io come persona ho dei difetti o comunque c'è delle cose che voglio cambiare o come è stato ho dei difetti nel caso dello Stato ci deve pensare l'esecutivo cioè il governo bisogna mettere in pratica queste cose cioè vision tempistica e poi forzatura e premiazione per chi va nella direzione richiesta quindi ci vogliono delle risorse e questo è il metodo con cui si ha quel cambiamento e ovviamente raggiungerlo e mantenere comunque queste cose anche dopo quel cambiamento è avvenuto soprattutto se è un cambiamento molto importante perché diventi abitudine a un certo punto poi si tende a stabilizzarsi nella nuova struttura sociale mentalità eccetera bene detto questo buon cambiamento a tutti aspetto sempre delle opinioni ovviamente io l'ho fatto perché penso che questo paese avrebbe bisogno di cambiare alcune cose magari è il mio pregiudizio aspetto dei commenti e dei suggerimenti magari se cosa pensate che in questo paese dovrebbe cambiare o magari è perfetto così com'è siamo noi che vogliamo cambiarlo che abbiamo dei difetti grazie per avermi ascoltato al prossimo video